Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'onda lunga dei controlli tocca ancora ai concessionari di spiaggia che occupano porzioni di arenile senza autorizzazione. In questi giorni a San Benedetto le verifiche da parte della Capitaneria di Porto si stanno concentrando verso nord con 5 chalet già sanzionati con multe fino a 13.000 euro e rimozione delle prime file di ombrelloni. Diversi concessionari, più precisamente 64 su 114, hanno presentato domanda di ampliamento spiaggia ma la pratica allo stato attuale non si è per tutti ancora conclusa. Un numero di controlli abbastanza elevati. Come dicevo molti stabilimenti sono stati trovati in regola. Hanno avanzato istanza al comune di ampliamento. Devo dire che il comune sta facendo un notevole sforzo per poter gestire queste istanze di ampliamento ma ricordo ai concessionari che fare istanza non legittima l'occupazione dell'area perché hanno prodotto un'istanza, l'amministrazione comunale deve istruire la pratica non è detto che poi la pratica vada a buon fine. Il solo presentare istanza non legittima l'occupazione delle aree. Come dicevo prima, ciò che è legittima l'occupazione del demanio marittimo è avere il titolo, la licenza suppletiva chiamata nel termine tecnico. Diversi stabilimenti, data la situazione, hanno tolto spontaneamente alcune file di ombrelloni per evitare sanzioni e soprattutto brutte sorprese ai clienti già rimasti scottati in alcuni sciale della riviera lo scorso anno quando dalla sera alla mattina non ritrovarono più il proprio ombrellone in prima fila poiché oggetto di sanzione. Dunque, per quest'anno stessa spiaggia, stesso mare, salvo ampliamento autorizzato del demanio.